tutto è pronto per questa semifinale in serie b si affrontano i ragazzi dell'ajax contro i azerbaijan partita che prevede scintille sicuramente due compagini dall'alto altissimo potenziale dalle grandissime capacità la palla vestita dietro da l'esposito poi per l'ence sulla destra vinci un rimpallo e croce al mancino no ti giuro l'avevo fatta apposta tiro la attenzione primo squillo verso la porta di cobro attenzione tiro il mancino la parte di troncone il mancino la parte di l'inci brandy massimo il mancino la parte dell'odio specchio viene mancato di poco mancino mamma mia cobro si supera lui riesce alcuni anni troncone attenzione esposito la palla largata il tiro di prima di brandy vola in corner romano attenzione il palo colpito e poi non ci credo sfortunatissimi azerbaijan si si un al mancino teniamo per cui la prima frazione di gioco sul punteggio ancora di 0 a 0 partita un po' bloccata direi vedremo cosa ci riserverà la ripresa si riparte dal punteggio di 0 a 0 semifinale ricordiamolo in serie b gara che qualora finisse così al termine dei 50 regolari si concluderà con il calcio di rigore il calcio di pulizioni arriva il gollo che porta in vantaggio l'ajax del 1 a 0 dell'olio spara la porta si gira serve ancora da punto poi l'enchi mancino che si infrange da veroa mezzo metro pure dallo spettacolo sull'enchi coper gli dice no vedi col centro schiaccia di testa il troncone va dentro colpa di patto e la rete di da punto non è valido secondo l'albito va dentro ora sono lì incredibile occasione per l'azerbaijan attenzione l'enchi l'albito 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 dell'olio attenzione il passaggio non riesce a prendere troncone prima di lui da punto il tiro puntato da l'albito esterno della rete calcio di punizione va brandi col mancino colpisce la traversa che esecuzione di brandi dell'olio mancino di l'enchi ancora decisivo cobro il contropiede colpisce il palo poi è esposito incredibile cosa si è divorato l'avrebbe chiuso qui lo è dentro il corpo di testa vita punto sfiora il pari su su e non c'è come torno allora è dentro la colpisce troncone ma la gara sta lì occhio da punto e poi la finisce le stelle e finisce qui Ajax vai in finale l'Ajax vince questa partita col punteggio di 1 a 0 una partita sofferta con gravi polemiche la parte degli avversari eccoci con io in campo questa è la gara l'Ajax una vittoria per 1 a 0 con i ragazzi atletico della che partita è stato? c'è una partita senz'altro molto combattuta e veramente un'orale a borsare che c'è un'orale a borsare non neanche a farla borsare non credo che sia un caso che sia un errore di secondo nell'area della season noi adesso ci giocheremo tutto senti me lo aspettavate con tutte queste difficoltà il passaggio di più? assolutamente sì ce l'aspettavamo perché si sapeva che l'Ansema di Can con una gappa sono squadramente molto tosta però l'importante è che siamo passati con le un viapponese adesso ci giocheremo ultima domanda per te adesso sarà Galacticos contro tutti come non può stabilire l'altra finalista che sperate di incontrare? sinceramente credo a questo punto che il torneo sia riuso a prendere il saluto e che mingga il fiore poi ce la capiremo benissimo complimenti a voi grazie a voi ciao